ciao a tutti in questo video vi parlerò della lama dip quindi la lama per tagli profondi è la lama che si utilizza per tagliare la gomma crepla quindi il fommi e vi spiego come funziona come vedete la lama qui vediamo se riusciamo a mettere a fuoco ok come vedete la lama a due righe di numeri la riga sotto questa con scritto 1 2 3 4 è in blu i numeretti sono scritti in blu questa qui sopra dove vedete 11 12 e 13 è scritta i numeretti sono scritti di rosso allora a questo punto che cosa succede come faccio a capire io a che numeretto ho impostato la lama è molto semplice in realtà basta saperlo praticamente che cosa faccio io vado a girare manualmente il pezzo sotto della lama come vedete a me esce fuori quindi si vede sia uno stacchetto blu che questo rosso quindi che vuol dire che praticamente la mia lama in questo caso essendo qui la stecchetta rossa posizionata su 11 1 come faccio a sapere se sta 11 o se sta uno è semplice come vi dicevo perché perché si vede sia la parte rossa che quella blu quindi in questo caso io so che l'ho messa a uno e lo so anche perché perché la lama fuori non c'è quindi la lama in questo caso è molto bassa non può stare a 11 ok quindi che faccio aumento mano a mano che aumento guardate il pezzettino blu come vedete rientra vedete adesso non si vede più ok di fatto io sono arrivata al numero 20 e numero 20 la parte blu che era qui è rientrata tutta dentro quindi che vuol dire che non mi posso sbagliare quindi non posso pensare che è impostata sul numero 10 che blu ma devo andarmi a guardare il numeretto rosso perché qui si vede solo la parte rossa se mi si vedeva come prima anche la parte blu tipo così tornando indietro ecco vedete adesso che mi si vede anche la parte blu allora lì so che è impostata sui numerini blu andando avanti come vedete la parte blu se ne va dentro e praticamente la lama come vedete eccola qua come vedete esce fuori io so che ho impostato praticamente la lama sul numero 20 perché mi si vede solo la parte rossa questa lama è necessaria se volete tagliare il fommi per quanto riguarda il feltro e il pannolenci sarebbe meglio tagliarli sì con questa lama ma utilizzando una uno stabilizzatore in modo che il materiale diventi un pochino più rigido e sia più facile tagliarlo spero di essere stata utile vi mando un abbraccio ciao